Salve amici del Centrometeo Italiano. Inizio di giugno che vede un aumento dell'instabilità senza via d'uscita. Tempo estivo e caldo sembrano dunque rinviati ad adestinarsi, ma vediamo di seguito la tendenza per il medio termine. Il campo barico europeo evidenzia a ridosso del weekend un peggioramento, instaurato dal transito di correnti atlantiche sulla nostra penisola. La giornata di sabato sarà caratterizzata da piogge e temporali sulle regioni del nord Italia. Al centro-sud prevista maggiore stabilità seppure i cieli non risulteranno del tutto limpidi. Domenica in compagnia di maggiore maltempo con fenomeni temporaleschi su gran parte delle regioni settentrionali. Il peggioramento coinvolgerà anche le regioni del centro-sud ma solo a partire dalle ore serali. Clima estivo scongiurato anche per la prossima settimana, quando l'alta pressione delle azzorre si ergerà sull'Europa occidentale. In questo frangente l'Italia sarà soggetta a continue correnti instabili che favoriranno la formazione di temporali moriridiani. Per il modello americano GFS la situazione potrebbe culminare verso il prossimo fine settimana. L'isolamento di una goccia fredda in quota potrebbe decretare una prima decade di giugno dai connotati decisamente poco estivi, scongiurando la possibilità di ondate di caldo ancora a lungo. Vista la distanza temporale che ci separa, vi invitiamo come sempre a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale di YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.